ciao a tutti allora come avete letto dal titolo questo è un video dove vi parlo della mia skin care routine diciamo aggiornata con i prodotti dell'ultimo periodo quelli che sto usando sia per il momento strucaggio sia il momento detersione mattutina sia appunto le creme che uso di giorno e le creme che uso la sera vi faccio un riassunto globale piuttosto veloce perché i prodotti sono tantissimi se mi dovessi soffermare davvero su ognuno di loro sarebbe veramente molto complicato quindi non vi racconterò i prodotti uno per uno ma vi veli elencherò e vi darò quella che è la successione nel quale li utilizzo più un'idea di come è strutturata a livello di applicazione a livello tempistico proprio di uso dei prodotti quindi nella sequenza nel quale li uso e quindi insomma se avete dei dubbi delle domande su ciascuno di questi prodotti chiedetemelo vi segnalerò comunque se di qualcuno di questi c'è un approfondimento in altri video allora inizio subito col raccontarvi diciamo cosa faccio la sera quando torno a casa quindi diciamo che inizio dalla fase strucaggio per poi raccontarvi la skin care notturna e poi passeremo a quella del mattino dunque la sera torno ovviamente la prima cosa che faccio è strucarmi e cerco di farlo anche piuttosto presto relativamente compatibilmente diciamo con l'orario di rientro perché è la mia routine serale prevede vari step anche dilazionati e distribuiti nel tempo per cui in effetti inizio con lo strucaggio che sto verso le sette le otto le nove di sera più o meno dipende appunto da quando riesco a tornare a casa ma poi la mia routine va avanti anche fino a che non vado a letto quindi magari l'ultimo step lo completo che so all'una di notte perché mi vado a coricare a quell'ora per cui ho bisogno di tempo prima faccio lo strucaggio meglio è per tutto il resto di azioni che poi vado a compiere è un po una filosofia copiata o comunque ispirata a quella che è la skin care routine delle donne coreane delle donne orientali che a differenza di noi occidentali o comunque io diciamo mi chiamo fuori perché sono entrata in una in un mood in una filosofia abbastanza differente da quella di alcune donne o comunque molte donne occidentali che è quella di spicciarsi fare tutto con un unico prodotto avere un prodotto unico che magari le strucchi completamente perché non hanno tanta voglia di farlo le donne per cui lo strucaggio è anche un po una seccatura ecco io sono un po un un caso differente perché a me piace moltissimo invece quel momento serale mi rilasso mi metto lì mi faccio tutti i miei trattamenti è un momento che dedico a me stessa e che così come altre cose che faccio per me stessa e per il mio fisico che so l'allenamento anche il curare il mio viso fa parte delle cose che mi piace fare che non faccio solo per dovere ragion per cui ci dedico tanto tempo allora detto questo che poi non è secondario ma è fondamentale perché vedrete così utilizzo tanti prodotti arriviamo alla strutturazione dello struccaggio allora prima di tutto molto spesso diciamo nel 90 per cento dei casi ho gli occhi molto truccati perché ne faccio sempre dei make up piuttosto strutturati che comprendono una base cremosa gli ombretti l'eyeliner il mascara insomma il mio occhio è piuttosto truccato non ho quasi mai solo del mascara è una riga di matita non mi succede mai per cui di regola per non stressare particolarmente con la fase che vedremo successivamente i miei occhi vado a fare quella che si chiama doppia pulizia double cleansing in nella skin care routine coreana quindi utilizzo un prodotto oleoso per struccare gli occhi e poi un prodotto cremoso per pulire il resto del viso il mio prodotto oleoso quindi bifasico del momento è un prodotto eccezionale a mio avviso che strucca benissimo è il bio seal su andesil di bio term questo prodotto lo trovate in scheda per praticità vi dico subito che qua in scheda trovate appunto la playlist degli struccaggio test dove tutti i prodotti che vi citerò sono stati messi alla prova e quindi li potete vedere in azione vi rimando alla scheda fatto questo e di regola uso i pads quelli grandi di cotone perché così utilizzo un lato per occhio e mi trovo benissimo quindi levato il grosso dai miei occhi passo alla detersione quindi allo struccaggio anzi non ho la detersione del resto del viso e utilizzo sempre un prodotto cremoso un prodotto che sia un latte detergente una crema una mousse detergente struccante il mio prodotto del momento è un prodotto che avevo diciamo abbandonato non perché non mi piacesse anzi mi piace tantissimo ma facendo gli struccaggio test volevo provare altri prodotti per fare dei video quindi ne avevo iniziato altri e questo l'avevo diciamo lasciato lì l'ho ripreso è comunque uno dei miei prodotti preferiti in assoluto il cleanse and polish hot cloth cleanser di lits earl questo prodotto ha solo una pecca che è il suo costo e la sua reperibilità bisogna ordinarlo online e viene venduto col suo pannetto la di mussola di il pannetto di mussola di cotone quindi un prodotto buonissimo che ha un potere struccante eccezionale ma anche un grandissimo pregio di avere un odore molto piacevole che sa proprio di spadio gli essenziali molto rilassante molto buone a base di olio di cocco e di oli essenziali di eucalipto rosmarino e camomilla questo mi piace tantissimo quindi lo massaggio su tutto il viso tutto il pastone che si crea vado a sportarlo col pannetto che bagno nell'acqua bollente con questo pannetto poi vado a tirar via tutto ciò che sul viso si è formato a livello di detriti di meca tra gli altri prodotti che uso per la detersione del trucco quindi del viso ci sono però anche altri lati creme latte creme detergenti uno di questi è una new entry abbastanza recente il bio source latte vellutato struccante e addolcente di biotherm anche questo è un ottimo prodotto è veramente gigante la confezione lo sto usando alternandolo a quello di litz herl mi piace molto a questo punto quindi vado con la detersione del viso appunto per a sportare i residui e sto utilizzando questo prodotto il bio source sempre di biotherm sto utilizzando tutta la linea perché l'avevo comprata questi non sono prodotti che mi hanno inviato ma sono tutti prodotti che ho comprato io fino adesso non vi ho citato nessun prodotto inviato ve lo dirò quando arriverà ed è il gelé fondante nettoillante exfoliant quotidien è un gel appunto detergente con delle piccolissime particelle esfolianti che vanno ad esfoliare granulose ecco molto 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 delicate e che mi piace utilizzare proprio per questa sua leggera granulosità perché mi sembra che vada proprio a pescare bene tutti i residui di make up e latte detergente a sportarli in maniera perfetta mi sembra che mi lasci proprio il viso stra pulito dovesse capitare di avere qualche residuo di trucco nella zona infraciliare vado a togliere tutto con il cotton fioc o dei dischetti di cotone imbevuti dalla mia acqua micellare preferita che è la physio pure e di svr questo è un prodotto invece che mi avevano inviato mi piace tantissimo allora a questo punto capita che io 3 4 5 volte a settimana dipende un po anche dall'orario se sono tornata presto a casa o meno faccia delle maschere possono essere maschere in tessuto oppure maschere in come si dice da risciacquare scusate cremose da risciacquare se si tratta di maschere cremose da risciacquare e lo step viene subito dopo appunto la detersione del viso se invece si tratta di maschere in tessuto di regola applico prima il tonico proprio perché diciamo che se uso quelle cremose vado poi di nuovo a passare l'acqua sul viso per asportarle insieme al pannetto uno di questi non uso lo stesso ma è comunque uguale perché ne ho due e vado ad asportare con quel pannetto la maschera quindi a quel punto ribagno il viso e il tonico lo metto dopo se invece uso la maschera in tessuto prima uso il tonico e poi uso la maschera in tessuto il tonico della sera al momento è il no scusate questo qua o il l'acqua di rose tonico rinfrescante di roberts oppure l'acqua tonica delicata viso di omnia botanica sono tutte e due due acque toniche due tonici diciamo viso a base di acqua di rose l'acqua di rose uno di quegli elementi che mi piace tantissimo utilizzare la sera proprio per il suo odore entrambe hanno questa proprio al primo posto all'acqua di rose ma anche in questo caso è al secondo posto quindi hanno linci che contiene acqua di rose in alto nella formula quindi sono veramente a base di acqua di rose si sente tanto questo odore è un odore per me molto rilassante anche addolcente perché dopo lo struccaggio il viso ha diciamo più bisogno di un tonico che sia un po anche restitutivo lenitivo e quindi lascio al mattino invece un'altra tipologia di tonico che è quello esfoliante che poi perché poi vedremo quindi step tonico lo abbiamo detto non vi faccio vedere le maschere perché porterebbe via troppo tempo quindi magari faccio se vi va se vi interessa un video specifico dove parlo di tutte le maschere ma comunque sapete che quella in tessuto le inserisco nei video finiti del mese anche in questo caso vi lascio qua la playlist dei video dei terminati del mese così potete vedere un po tutti i prodotti che finisco e vedere i giudizi che esprimo in merito ai prodotti che è veramente utilizzato utilizzato fino alla fine quindi posso dire qualcosa in merito di più concreto a questo punto di regola applico la mia crema al 0,05 per cento di tretinoina come sapete lo racconto dalla notte dei tempi in tutti i mesi che vanno da l'autunno quindi metà settembre inizi di ottobre fino alla fine di aprile metà di maggio utilizzo a cicli appunto diciamo autunnali invernali un l'acido retinoico che appunto o che dir si voglia tretinoina io compro la tretinoina della fame è un farmaco generico quindi comunque che sia questo marchio che sia un altro l'importante che sia tretinoina 0,05 per cento è un farmaco che viene venduto sotto prescrizione medica quindi con la ricetta e non mi dilungo a descrivervi i pregi di questo prodotto e anche la posologia che io seguo il metodo applicativo che io seguo perché ho fatto dei video in merito e ve li lascio sempre in questa scheda che si chiama come curo il mio viso da mattina a sera e troverete i video che parlano proprio c'è un video specifico che parla di questo prodotto solo per dirvi genericamente che cos'è questo prodotto è un prodotto ad altissimo potere antirughe che raggiunge tramite la sua altissima azione esfoliante esfoliando la pelle quindi andando ad accelerare il turnover cellulare che di regola con l'età si va invece a rallentare a questa grandissima azione antirughe anzi dai medici estetici viene considerato l'unico trattamento veramente antirughe quindi che agisce anche sulle rughe presenti e non soltanto sulla prevenzione che invece i medici estetici ritengono che tutte le creme cosiddette antirughe abbiano un potere preventivo delle rughe ma non curativo della ruga stessa e il medico che ai tempi mi suggerì mi aiutò a capirci meglio diciamo qualcosa sulla tretinoina e mi disse appunto che questo è l'unico prodotto che può considerarsi antiruga nel vero senso della parola detto questo passiamo oltre che tanto avete il video quindi a questo punto io di regola cosa faccio mangio, vedo un po' di tv con Pablo insomma la serata normale che tutti hanno quindi magari passa anche un'ora, due prima che io riprenda in mano la skin care routine serale poi Pablo va a lavoro io di regola quindi sto a casa a guardarmi qualcosa alla tv a lavorare al computer eccetera e faccio la parte finale della mia skin care routine che prevede appunto l'applicazione di quello che poi alla fine credo facciano tutte, quello che poi alla fine credo che facciate tutte voi cioè siero, crema, contornocchi eccetera quindi come sieri ne sto utilizzando due uno è di Elizabeth Arden si chiama il Super Start Skin Renewal Booster ed è appunto un siero che ha appunto delle proprietà di rinnovamento cellulare dicevo è un siero stimolante rinnovatore mi piace molto, è un prodotto del quale vi avevo parlato credo in qualche video beauty news quindi anche in questo caso vi lascio nel caso la scheda se dovessi citare troppe schede e non dovessi riuscire a metterle tutte qua perché posso aggiungerne solo 5 le trovate comunque nelle playlist del canale quindi potete andare a vederle c'è la scheda, la playlist diciamo dedicata alle beauty news altro siero che utilizzo quindi ne uso due uso quello di Elizabeth Arden è questo li sovrappongo è per questo che vi dico che la mia skin care routine serale dura un po' perché io metto il siero poi magari torno davanti al pc, davanti alla tv mi prendo la tisana quindi passano magari 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora non è che sto lì a guardare però lascio diciamo il tempo alla pelle di assorbire quel siero e poi ne applico un altro quello del momento è il siero occhi, labbra, le bacche di goji questo prodotto qua di questa marca che mi era stato regalato ma non ricordo bene, forse da qualche amica che me lo voleva far provare è un siero italiano perché è di produzione appunto italiana viene prodotto a Corigliano Calabro dunque vediamo cosa vi posso dire allora dice che l'ingrediente base di questo siero è un estratto di bacche combinato ad olio d'argan e acido ialuronico quindi ha un po' un effetto lifting nutriente, antiossidante e molto idratante quindi questo è l'altro siero che utilizzo sempre a step diciamo di un tot di tempo da l'uno dall'altro niente vi vieta di farlo magari anche in tempi ravvicinati sono io che preferisco utilizzare questa tecnica e sentire che il prodotto viene completamente, interamente, perfettamente assorbito dalla pelle a questo punto passo al contorno occhi e in questo caso sto utilizzando un prodotto sempre di quella casa cosmetica questa io la leggerei più B però non so se è giusto leggerla così questo è il simbolo, non saprei dirvi di più ed è il siero viso alla moringa ricco di olio d'argan e acido ialuronico arriviamo poi alla crema notte dove sto terminando un prodotto che invece non è tra i miei favoriti è un prodotto che sinceramente non ricomprerei non perché probabilmente non sia una buona crema per altri tipi di pelle non è un giudizio assoluto come non dovrebbe mai essere perché noi ci rapportiamo ai prodotti relativamente a quello che è il nostro feedback ma questo feedback è dato dalla nostra tipologia di pelle, dai nostri anni magari anche dal nostro metodo di utilizzo da altri prodotti che magari lavorano in sinergia con questo prodotto quindi questo è il mio parere relativamente alla mia pelle credo che questo prodotto non sia sufficientemente ricco per me infatti se io applico solo questa crema sento il mio viso tirare non lo sento nutrito non è una crema sufficientemente ricca per le mie esigenze uno dei fattori infatti dei risvolti ecco diciamo negativi dell'acido retinoico quindi la tretinoina è che va a seccare tantissimo la pelle e io ho già una pelle molto secca di mio la pelle poi diventa più secca che nel corso degli anni quindi man mano che si invecchia di regola la pelle va a seccarsi sempre di più io ho già una pelle secca fin da ragazzina adesso quindi ancora più secca con l'acido retinoico la tretinoina è ancora di più quindi ho bisogno di un prodotto molto nutriente questa è la crema di equilibra crema viso antirughe all'argan che io non vi boccio ma vi dico che per una pelle strasecca come la mia non è sufficiente risolvo alla grandissima il problema con un prodotto che credo finirà tra i preferiti del 2017 perché mi entusiasma di questo prodotto mi piace tutto mi piace il risultato sulla pelle mi piace l'odore moltissimo mi piace la texture perché questo olio o pelli olio viso scusate pelli mature con olio d'oliva di Palazzo Massaini di Bottega Verde ha un da un risultato sulla pelle non oleoso si va ad assorbire subito sembra che voi abbiate applicato un prodotto siliconico per quanto vi lascia la pelle super liscia super setosa molto nutrita e quindi io cosa faccio faccio una conchetta con la mano ne metto 5-6 gocce nel frattempo sul viso ho già messo dei tocchi di crema quella appunto all'argan sfrego le mani in questo modo e vado a spalmare il tutto sul viso in questo modo la crema magicamente diventa si addiziona diciamo di quel toto di nutrimento che probabilmente le manca questo prodotto mi piace tantissimo io poi ho il vizio comunque di aggiungere delle gocce di oli alle creme notte in questo caso però era praticamente indispensabile mi stavo dimenticando di dirvi che insieme alla crema quando faccio i tocchi sul viso aggiungo ma questo è una costante che faccio sempre qualsiasi skin care routine io seguo alle mie creme giorno e notte viene sempre addizionato questo prodotto anche questo prodotto viene citato nella playlist come curo il mio viso da mattina a sera si tratta del famosissimo ultra citato in questo canale acido alfa lipoico è la crema si chiama Tiobek che contiene acido alfa lipoico al 5% questa crema invece è di libera vendita non ha bisogno di ricetta medica non ha controindicazioni può essere utilizzata sempre estate inverno mattina sera sul contorno occhi sul viso sul collo dove volete è praticamente una crema che contiene in concentrazione molto elevata perché il 5% è una bella concentrazione acido alfa lipoico che è il più potente antiossidante che ci sia molto più potente della vitamina C e quindi diciamo da solo non ha senso va addizionata alle creme perché le creme contengono tutti degli agenti nutrienti e idratanti oltre che ai principi attivi antiossidanti o antiage questo invece è puro principio antiossidante principio attivo antiossidante che quindi io addiziono a tutte le mie creme dando loro quel boost di antiossidanti appunto che magari non hanno per cui il Tiobek è sempre 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 nella mia skincare routine poi la sera cosa faccio a questo punto al momento di andare a letto crema a mani visto che però stiamo parlando del viso vi devo dire che non c'è sera soprattutto d'inverno in cui io non completi la skincare del viso con una abbondante dose di burro di cacao sulle labbra comunque di lip balm diciamo che burro cacao era un modo per chiamare ai miei tempi il lip balm in questo caso uso quello di Martina Gebart che mi sta piacendo tantissimo molto 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 è praticamente credo al momento il mio lip balm preferito sapete che ho adorato quello di Lush l'ultra balm di Lush molto buono ma forse questo mi piace di più a parte che di questo mi piace moltissimo l'odore ha ovviamente un ottimo inchi è un prodotto da bioprofumeria a me lo ha regalato Francesca Lady Mijia della bioprofumeria Timiama di Bergamo se siete di Bergamo andate a trovarla in via Santomaso e quindi potete comprare anche questo lip balm costa 7 euro e no arriviamo quindi credo al mattino il mattino cosa faccio di regola pulisco il viso con il Clarisonic questo Clarisonic subisce degli spostamenti a seconda dei miei umori mensili a volte lo metto con lo uso nel momento della detergenza dopo il latte detergente insomma lo step che faccio con il prodotto quello con i granulini a volte in quel momento lì uso un detergente con il Clarisonic adesso l'ho spostato al giorno alla mattina proprio perché di essere sto usando quello della biotherm che ha i granulini e non vado a usare sia granulini che spazzolina del Clarisonic quindi l'ho spostato al mattino ma diciamo che il Clarisonic è una costante una volta al giorno della mia skin care riguardante il momento della detersione che io lo faccia di sera o che io lo faccia di mattina uso il Clarisonic in uno dei due momenti al momento lo uso di mattina e ho anche sostituito di recente la testina solita che avevo devo dire che l'ho lasciata tipo due anni ormai grattugiava anche una forma di grano che era diventata bella dura con la testina cashmere di la testina cashmere appunto che è questa qua morbidissima forse un filo troppo morbida o ero abituata a quella che era tipo non lo so molto molto invasiva e questa mi sembra leggerissima molto delicata o comunque è troppo delicata per me non lo so sono ancora nella fase in cui mi devo fare un'idea precisa quindi cosa faccio pulizia del viso al mattino sto usando il Biosource sempre di Bioterm sempre acquistato da me Biosource mousse che pulisce dolcemente con potere idratante è una mousse veramente delicatissima indicata proprio anche nelle indicazioni sulla confezione per la pelle secca dice deterge delicatamente la pelle senza secarla è molto vero ne basta veramente pochissimo è una mousse piuttosto solida quando la tirate fuori dal tubetto sembra quasi un dentifricio però poi in realtà è ricca d'aria quando viene fuori perché appena la toccata la spalmate sul viso vedete che è proprio una mousse e con il Clarisonic vi crea una schiuma esagerata quindi veramente dovete usarne pochissima io le prime volte ne ho messo tantissima e avevo schiuma fino alle spalle e invece basta un tanto così veramente un centimetro due centimetri massimo di prodotto per fare una schiuma esagerata quando appunto nei periodi in cui non uso il Clarisonic la mattina oppure ci sono dei giorni in cui non uso il Clarisonic e vado con lo scrub oppure ancora quando il Clarisonic appunto lo uso la sera la mattina magari uso lo scrub insomma posiziono lo scrub qui e lì ma le uso sempre almeno due o tre volte a settimana i miei prediletti sono uno quello di sempre cioè lo uso veramente credo ormai da un anno e mezzo due non mi ricordo però ne ho utilizzato già metà e contate che questo prodotto è infinito è un prodotto fatto tipo saliera vedete ha i buchini qua e dentro c'è una farina sottilissima sabbiolina ecco è una sabbiolina sottilissima si chiama puder exfoliant metamorfose ed è appunto una polvere esfoliante che oltre ad agire a livello meccanico perché i microgranuli massaggiati sulla pelle arrivano ad esfoliare ha anche un'azione enzimatica è praticamente il mio scrub viso straperferito di sempre mi piace tantissimo costa circa 13 euro un prodotto appunto sephora cosa dirvi io bagno le mani quando le mani le sgocciolo leggermente metto la polvere direttamente sulle mani emulsiono un po' il prodotto con diciamo l'umido che è rimasto sulle mani e poi me lo spalmo sul viso asciutto e l'effetto è strabiliante la pelle è subito liscissima questo prodotto mi piace moltissimo ma in questo periodo in cui ho la pelle particolarmente secca particolarmente appunto esfoliata e trattata a volte preferisco anche uno scrub un po' più delicato e questo è lo scrub che vi ho citato credo anche nelle 6 ore in mani è la Pat Delice esfoliante lisciante di lo Citan è un prodotto che all'inizio non mi aveva conquistato completamente perché l'avevo utilizzato d'estate ed è stata decisamente invece secondo me controindicato perché il primo ingrediente è l'olio di semi di girasole quindi è molto oleoso come scrub la sentite proprio la base oleosa per cui mi lasciava questa patina un po' oleosa mi infastidiva e dopo sentivo il bisogno di dovermi sciacquare la faccia con un detergente che era un po' una rottura dopo lo scrub fare anche la detergenza e invece adesso mi piace molto in questo periodo dell'anno che mi rimanga sulla pelle questa patina oleosa anche perché so che è una patina oleosa che posso lasciare assorbire la pelle non è data che so da paraffine siliconi o diciamo cose che voglio levare dal viso come per esempio accade con il bifasico sapete quella patina un po' che lascia il bifasico che però comunque non mi preoccupa più di tanto perché poi ci vado a passare il pannetto e mussola il detergente quindi asporto tutto ecco questo è un ottimo prodotto se avete la pelle secca se cercate uno scrub molto oleoso molto funziona perché ha i granuli abbastanza grossi ma è lenito diciamo il tutto dal dal fatto che c'è una bella quota una bella parte di oleosità quindi il mattino o la sera mi sono dimenticata di dirvi a seconda dell'umore del momento della necessità uso anche lo scrub labbra il mio prodotto del momento è il lip scrub di Lush nella versione natalizia che si chiamava Santas ed è appunto un prodotto naturale perché è dato proprio da zucchero di canna e quindi lo vado a sfregare sulle labbra visto che come tutte utilizzo nel 90% delle volte tinte labbra che vanno abbastanza a seccare le labbra bisogna che siano sempre belle scrubate nutrite e prive di pellicine quindi spesso è una cosa che faccio la sera mentre gli scrub ultimamente sono una cosa che faccio la mattina lo scrub labbra lo faccio la sera che dopo prima di andare a letto metto il lip balm dunque altro scrub che mi piace moltissimo è quello della Hello Body il Coco Glow questo qua si può utilizzare sia per il corpo che per il viso io addirittura per il viso lo prediligo mi piace tantissimo è al caffè è olio di cocco ha un inci molto buono un profumo di caffè pazzesco e scrub molto 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 bene quindi è anche questo uno dei miei preferiti lo sto utilizzando non lo finirò mai perché ce n'è tantissimo utilizzandolo per il viso durerà tantissimo finita quindi la mia detersione viso che comprenda o no lo scrub vado a utilizzare il Glow Tonic di Pixi che è un tonico che vi ho messo appunto le sedorimanie del mese perché mi piace da morire è con dell'acido glicolico quindi ha il 5% di acido glicolico come tutti i prodotti che contengono un qualcosa di esfoliante io li adoro per cui è però anche aloe vera e ginseng quindi anche piuttosto energizzante vi dà proprio un po' questa sensazione di svegliarvi che la mattina ci sta mentre la sera ripeto preferisco i tonici a base di di rosa di acqua di rosa che sono invece più rilassanti e più congeniali col momento sonno che sta per arrivare quindi questo è il tonico del mattino a questo punto vado di nuovo con i due sieri che sono sempre quelli che uso la sera quindi quello della B1 e quello della Elizabeth Arden ecco qua e mi sa che prima li ho invertiti il siero alle bacche di goge e quello chi labbra non so se li ho detti giusti però è così quindi dopo aver applicato i sieri vado con la mia crema che da mesi è sempre la solita la Deox Sea Evolution di Biolange che mi piace tantissimo mi piace tutto di questo prodotto mi piace l'odore mi piace la texture mi piace il livello di idratazione è molto molto idratante molto energizzante molto illuminante è un prodotto a base di vitamina C in alta percentuali e io vado molto d'accordo con i prodotti a base di vitamina C l'odore fruttato agrumato è veramente molto gradevole e io sono una di quelle persone che si fa molto conquistare dall'odore di un prodotto l'odore di un prodotto fa un buon non dico 50% però come dire mi predispone molto bene verso un prodotto per me è importante l'odore basta a questo punto io metto ovviamente anche il contorno a occhi che è sempre lo stesso della sera questo appunto della più B al bacche di goji e sono a posto pronta per iniziare il mio make up se mi trucco oppure niente sto così a casa senza truccarmi terminando in questo modo la skin care se mi trucco di regola se non mi trucco immediatamente nel momento successivo all'applicazione delle creme rimetto sempre una dose di contorno a occhi prima di truccarmi perché il mio contorno a occhi è molto secco e quindi prima di andare con ciprie fondotinta con correttori eccetera voglio che l'occhio sia molto idratato e che sia stato idratato immediatamente prima quindi riapplico il contorno a occhi detto questo credo di avervi veramente raccontato tutta la skin care come al solito il video viene piuttosto lungo ma i prodotti come vedete sono tanti per cui niente io vi ringrazio se siete arrivate fino a questo punto mi chiedete sempre degli aggiornamenti sulla skin care quindi spero di aver fatto cosa gradita con questo video se vi è piaciuto mi potete lasciare un like se è la prima volta che capitate sul mio canale potete magari cogliere l'occasione di iscrivervi cliccando qui e se volete questi sono altri video caricati di recente sul canale c'è proprio un beauty news che è stato appunto caricato ieri io vi ringrazio vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao